Non mancano così poche giornate che sono tutte importanti e decisive. Adesso abbiamo due partite in casa e dobbiamo cercare di fare il bottino pieno. Le partite non sono semplici, perché è vero che il Catania ha forse molto da chiedere ancora al campionato, però è una squadra che ha giocato sempre bene e gioca un calcio. Hanno fatto buonissimi risultati fino a settimana scorsa e io credo che vorranno finire bene anche la stagione. Noi speriamo che le motivazioni contino, perché in zona retrocessione sembra quasi definito, almeno poi noi non dobbiamo incontrare squadre che sono in lotta. Noi speriamo che le motivazioni contino, perché le nostre sono molto forti. Sapevamo che era un trittico difficile questo, perché si poteva anche ipotizzare di fare due o tre punti, potevi anche non perdere mai e fare tre punti e non vincere mai, e ce l'avevi addosso lo stesso, probabilmente è andata così. È chiaro che il rammarico più grande l'abbiamo per la partita di Firenze, dove a 35 minuti alla fine eravamo 2-0 con un giocatore in più e anche se ci sono stati episodi strani che potevano essere valutati in maniera diversa, però noi non dobbiamo dargli l'opportunità di rientrare in partita. Quello è stato un errore grande che ci porterà a lottare fino alla fine. Dipende da noi, sappiamo che dipende da noi, se saremo bravi dipenderà anche settimana prossima da noi. Finché avremo il destino, nostri mani o piedi, perché come si vuol dire, è meglio, sarà meglio. Poi se il destino dovesse passare anche nei piedi delle altre squadre, allora dovremmo preoccuparci di più. Mario è un giocatore molto importante, lo ha fatto vedere appena entrato in questa squadra e non averla avuto per queste partite è stata una perdita che è pesata, anche se Pazzini che è rientrato ha fatto il suo, ma averli tutti a disposizione è il meglio, poter scegliere, poter far far mezz'ora a qualcuno. insomma.